Ecco carissimi utenti un'altra realtà calcistica che è appunto l'Alvignanellese con divisa rosso-blu, una squadra che punta molto sui giovani, una squadra che gioca per divertimento ma soprattutto per far emergere le proprie risorse locali. Siamo qui con il presidente Foschini qui nelle immagini, attualmente timone della compagine rosso-blu dell'Alvignanellese. Il vostro obiettivo giustamente è quello in realtà presidente di divertirvi e di far emergere un calcio puro e giovane, vero? Sì, diciamo di sì perché sono più o meno otto anni che gioco in questa squadra e credo in questi ragazzi. Diciamo che stiamo provando a fare un bel campionato ma purtroppo, come si dice, pallone rotondo, vediamo un po' cosa facciamo specialmente stamattina in questa squadra di Civitella qua che stanno pure loro ultimi in classifica perché noi avevamo puntato per una seconda categoria. Poi abbiamo visto un po' i giocatori, abbiamo pensato di fare un'altra categoria, però vediamo un po' com'è. Noi crediamo, crediamo tanto, soprattutto perché lo sport ci piace. Ecco, in realtà ricordiamo che comunque l'Alvignanellese è stata anche nelle categorie superiori, quindi ha una storia in pratica molto importante, ha una memoria storica. Giustamente voi puntate molto sulle risorse giovanili, qui abbiamo molti giovani che possono giustamente emergere, vero? Certo, come no, come no, infatti ci sta il più piccolino, il numero 14 che stiamo crescendo, questo ragazzo qui e gli altri diciamo sono già abbastanza grandi, poi c'è questo ragazzo qua, il numero 15 anche più piccolino, Giovanni, lui si chiama Nicola. Questo è. Voi avete creato un progetto proprio per i giovani, per rivalutare soprattutto le risorse giovanili. Sì, sì, sì. Il calcio è anche questo? Certo, come? Soprattutto questo, sì. Noi, non lo so, stiamo vedendo perché è una bella squadra ma non riusciamo ancora a capire dove sta l'errore di questa squadra perché siamo dei ragazzi che hanno un po' di esperienze, diciamo, Savocchi è il numero 4, è un ragazzo che gioca di esperienze numero 5, gioca in altre categorie abbastanza alte. Il numero 9 è la stessa cosa come il numero 8. Purtroppo ancora non riusciamo a ingranare la partita, ecco. Ma se riusciamo a ingranare pensiamo di vincere. Giustamente il campionato è lungo, presidente, per cui i conti non sono ancora stati fatti. Si può ancora giocare, il campionato è lungo? Noi speriamo, sì, perché crediamo, crediamo ancora anche perché abbiamo, diciamo, anche come squadra, siamo una squadra abbastanza compatibile, no? Con le altre squadre come tipo Schiapparella là che siamo andati a giocare, no? Abbiamo pareggiato una partita all'ultimo per coppa dell'albitro che va a mettere sette minuti di recupero e noi abbiamo perso una partita 1-0. In quanto abbiamo pareggiato una bella partita. E adesso proviamo, proviamo e stiamo andando avanti. Poi è stato scelto da, diciamo, da me, diciamo, perché abbiamo trovato questo sponsor della farmacia del dottor Luigi Maturi, che sta a Castel Campagnano, che ci dà una mano per fare questo bel campionato. Ecco, il logo, questa alvignanellese, pallone. Che, vabbè, l'alvignanellese è stato preso dal vignano, cioè da Castel Campagnano, qua dove è nata la squadra, che è un paesino piccolo di avgnanello, si chiama. E abbiamo pensato di mettere avgnanellese. Ecco, questo è il logo che abbiamo cercato di impostarlo. Il pubblico segue questa squadra, diciamo, è stimolato anche dalla presenza di molti giovani? Sì, diciamo di sì, specialmente quando una squadra è compatta come la nostra, vengono i nostri amici, diciamo, a vedere le partite. Ci seguono anche, alcune volte, fuori casa, a quattro sei partite. Noi crediamo, crediamo nella squadra grazie a loro. Siamo con il presidente Galietti. Ecco, nelle immagini, un presidente che ci viene alla sua squadra, all'alvignanellese. Ecco, presidente, la squadra punta molto sui giovani e lei ci sta contando molto. I giovani rappresentano il tassello della società e possono giustamente esprimere il loro pensiero anche attraverso lo sport, vero? Sì, noi puntiamo soprattutto sui giovani perché a questi livelli, solo con i ragazzi si può più andare avanti, sono tutti ragazzi locali, qui tra Vignanella, Castel Campagnano e qualcuno di Piana di Monte Verna, tutti i paesi intorni. Ecco, giustamente vede uno spogliatoio molto stimolato, quindi il gruppo è molto compatto per cui ci si diverte la domenica. Sì, la prima cosa fondamentale è questo, il divertimento. Dato che sono molti ragazzi, oltre il 50% della squadra sono ragazzi del primo campionato, allora abbiamo incontrato un po' di difficoltà all'inizio, ma la squadra, penso, incomincerà a reagire bene, ma soprattutto lo sport che noi puntiamo più alla serietà e allo sport in sé per sé. Grazie Presidente Caletti. Ricordiamo che l'Alvignanellese in pratica quest'estate festeggerà i 35 anni di età. Ecco Presidente, davvero è un grosso successo, 35 anni di storia che sono davvero tanti. E tra l'altro lei a Cagliari ha ricevuto un bene merito dal Presidente della Figgi Città Vecchio. Prego. Sì, l'anno scorso a Cagliari sono state premiate dalla Lega per tutti questi anni di attività. Ricordiamo che Alvignanellese è un piccolo paese, non a campo. E questo è il problema più grande, perciò veniamo a Castelcammagnà. Sono 35 anni che stiamo chiedendo, è comune cosa, di farci un campo per noi. Perché Alvignanellese è anche una frazione, questo dobbiamo anche dirlo. È un piccolo paese, una piccola realtà, diciamo. Grazie.